Giornata di elezioni amministrative anche per i cittadini di tre comuni dell'area Vestina. In nessuno di questi centri era previsto il turno di ballottaggio. A Cepagatti il nuovo sindaco con 3.003 voti e Gino Cantò con la lista civica Cepagatti C'è, il quale ha raggiunto il 46,71%. Il nuovo sindaco ha avuto la meglio sul candidato di Cepagatti Unita, Domenico Di Meo, che ha raccolto 2.427 voti attestandosi al 27,75%. Nulla da fare per il Movimento 5 Stelle, il candidato a sindaco Daniele Fiucci si è fermato a 758 voti così come Claudio Orsini che ha totalizzato 79 voti. È una grande emozione, certo un successo del genere era inaspettato perché pensavamo che addirittura stavamo sotto l'altra lista e invece abbiamo stravinto. Abbiamo costruito e vogliamo costruire la nostra amministrazione nella trasparenza. Io cercherò di essere il sindaco di tutta la cittadinanza, penso di essere una persona moderata e i cittadini spero che si fidano e io posso fidarmi di loro. A Pianella riconferma per il sindaco uscente Sandro Marinelli con la lista civica Progetto Futuro con 2.673 voti, staccando di 565 voti il suo sfidante Gianni Filippone, lista civica Pianella Vicina, fermo a 2.108 voti. Anche qui, come a Cepagatti, nulla da fare per il Movimento 5 Stelle. Il candidato Federica Fedele ha chiuso con soli 350 voti a suo favore. Questo risultato premi il grande lavoro fatto in questi cinque anni e soprattutto il dato di partenza che noi avevamo trovato quando siamo arrivati nel 2013, il Comune era tecnicamente fallito, lo abbiamo riportato in bonus. Posso solo dire grazie perché dopo la frammentazione del 2013 tutte le forze che in qualche modo erano state scalzate, le forze insomma trentennali che avevano condizionato lo sviluppo di Pianella portandola a un punto di default imminente. I numeri sono sotto gli occhi di tutti perché davvero il segnale è quello di voltare definitivamente pagina, abbandonare quel sistema che tanto aveva fatto male a questo territorio per guardare avanti con energie rinnovate, con uno spirito di coesione sociale, di unità territoriale e di grandi prospettive. Come è accaduto a Pianella, anche Loretta Prutino ha confermato il suo sindaco uscente Gabriele Starinieri. Starinieri, con la lista civica Progresso e Tradizione, ha collezionato 2027 voti, raggiungendo il 46,29%. Al secondo posto, staccato di 598 voti, raggiungendo 1429 voti, il candidato della lista civica in comune, Antonello delle Monache. Terzo e più indietro, il candidato della lista civica, Cittadini per Loreto. Il candidato sindaco, Remo Giovanetti, si è fermato a 922 voti a suo favore. Ringrazio i cittadini che mi hanno dato fiducia e prometto il massimo impegno con chi verrà eletto, con i consiglieri che entreranno in Consiglio Comunale, per continuare quella che ritengo una buona amministrazione per un futuro sempre più rosio per Loreto Prutino. Beh, l'emozione tantissima, trattenuta fino a poco fa, quando c'è stato il consulimento dei dati. E quando ci speravo, anche lì tantissimo, perché l'impegno, siamo partiti da zero programmazione, abbiamo fatto una politica di bilancio quasi perfetta, abbiamo ottenuto tanti finanziamenti e quindi avremo da realizzare tante opere, soprattutto la sede municipale.